Benvenute e benvenuti a Smartphone. In questo episodio parleremo di quello che è il trasporto pubblico locale e come acquistare i relativi biglietti direttamente dal nostro smartphone. Infatti, se un tempo per acquistare i biglietti di treno o autobus dovevamo andare in biglietteria e ovviamente trovarla aperta, oggi possiamo fare tutto tranquillamente dal nostro smartphone e vediamo subito come fare. Dovremo quindi avere nel nostro smartphone l'applicazione della Dolomiti Bus, il trasporto pubblico locale e quella di Trenitalia per acquistare i biglietti del treno. Quindi vediamo subito come fare. Prendiamo il nostro smartphone e andiamo ad aprire l'applicazione della Dolomiti Bus. Questa applicazione ci permetterà di fare davvero tante cose come calcolare il percorso, vedere quelle che sono fermate ed orari delle corriere e degli autobus, acquistare i titoli di viaggio e anche validarli direttamente all'interno dell'applicazione. Vediamo subito magari come calcolare quello che è il percorso che vogliamo fare utilizzando i trasporti della Dolomiti Bus. Clicchiamo quindi su Calcola percorso e ad esempio voglio andare da Belluno, dalla stazione di Belluno, fino a Ponte negli Alpi via le Dolomiti. Clicco quindi su Cerca partenza e vado a indicare Belluno FS. Nella destinazione ovviamente vado a indicare Ponte negli Alpi via le Dolomiti. Qui posso andare ad inserire anche quella che è la data e l'orario in cui voglio partire e mi farà vedere tutte quelle che sono le soluzioni disponibili con le varie corriere. Clicco quindi su Cerca soluzione ed ecco qui che mi mostrerà tutti gli autobus e corriere disponibili per raggiungere il luogo indicato. Se vogliamo acquistare invece il titolo di viaggio direttamente dal nostro smartphone, direttamente dall'applicazione della Dolomiti Bus, andiamo a cliccare quindi su Acquista e poi cliccheremo su Biglietti a tariffa fissa perché questa applicazione ci permette eventualmente anche di acquistare gli abbonamenti. Clicchiamo quindi su Biglietti e qui andiamo a selezionare la categoria di biglietti che più ci interessa. Nel mio caso vado a selezionare Titoli extraurbani e poi vado a scegliere la fascia chilometrica desiderata, nel mio caso 12 km. Ed ecco qui che possiamo andare ad acquistare direttamente con la nostra carta il nostro biglietto. Ricordiamoci poi di andare a validare questo biglietto una volta acquistato. Se vogliamo invece acquistare un biglietto del treno, quindi utilizzando l'applicazione Trenitalia, ci basterà aprirla e andare a cercare quella che è la soluzione di viaggio che fa per noi. Per farlo ci basterà cliccare sulla lente di ingrandimento che troveremo al centro. Proviamo quindi a cliccare e andare a inserire un viaggio da Belluno a Venezia. Vado quindi a inserire come stazione di partenza la stazione di Belluno e come stazione di arrivo la stazione di Venezia e Santa Lucia. Ecco qui che dopo aver inserito la stazione di partenza e la stazione di arrivo, posso andare a inserire anche il luogo e la data in cui voglio viaggiare. Ecco qui che dopo aver inserito la stazione di partenza e la stazione di arrivo, nel nostro caso da Belluno a Venezia, vado a cliccare sul tasto ricerca e mi farà vedere tutte le soluzioni di viaggio disponibili per raggiungere Venezia in questo caso. Vado quindi a cercare il treno che fa per noi, ci clicco e ecco qui che attraverso una procedura guidata posso andare ad acquistare quello che è il biglietto del treno. Ricordiamoci che da agosto 2023 per viaggiare con i biglietti elettronici comprati direttamente sul nostro smartphone dobbiamo effettuare quello che è il check-in, una sorta di obliterazione come accade per i biglietti cartacei che compriamo in stazione. Quindi ricordiamoci sempre di fare il check-in e siamo pronti per partire. Abbiamo quindi visto due servizi davvero utili, quello della Dolomiti Bus, il trasporto pubblico locale e quello dei treni con l'applicazione della Trenitalia. E anche per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!